Già due settimane che comunque è arrivata una certa ora, spunta questa, che per me è Santa Rita, perché comunque abbiamo confrontato l'immagine della Santa, ci sono molti particolari, adesso ho visto anche col binocolo, ho visto gli occhi, ho visto il naso, cioè per me c'è stata un'emozione bellissima. Perché è giusto questa sagoma? Perché è giusto tutti questi particolari? Per me è un'illusione ottica, però troppi particolari. Ma a me veramente mi è arrivato un messaggio di un'amica mia dicendo che si vedeva una santa nel campanile della Madonna Mercedes, la curiosità è donna e sono andata con mia nuora per andare a vedere. Comunque vedevo con il binocolo e vedevo la sagoma di questa santa, quello che non lo so. Poi però facendo le foto con la macchina fotografica è venuta perfetta, anche con il fazzoletto nelle mani chinata che pregava. Io sono andata qua perché ho veramente aperto Facebook e ho visto questa immagine, la curiosità mi sono presentata, perché tant'anni che visto che mio papà e mia mamma sono di qua non ho mai visto niente, dico dopo tanti anni succede questo, voglio vedere. E veramente mi è emozionato perché ieri sera io l'ho vista. Tra l'altro sì sì, ieri sera c'è stata anche una cosa in particolare, siamo venuti qua tutti e tre amici, ieri sera c'è stato un soffio di vento strano e delle colombe bianche, in primis tre colombe bianche che sono volate intorno a lei, poi altre tre e poi una. Poi queste sono sparite, però si muoveva, l'immagine si muoveva comunque, quindi è strana sta cosa. Secondo me, ahimè, devo dire ahimè, sono leggende metropolitane, un'apparizione che possa essere divina non si manifesta da oggi a domani, sceglie una persona che possa essere un veggente non si manifesta agli occhi di tutti, dire che sia un'ullisione ottica no, no, perché è visibile a tutto sia al buio che con la luce. Guardi, ieri sera io ho parlato personalmente col parroco, è molto scettico, ma la chiesa è molto scettica, perché prima che interviene abbiamo l'esperienza immagicorretta e quant'altro e il parroco sosteneva che possa essere anche il male, Satana. Così ha detto il parroco ieri sera? Gente veramente che ha bisogno di credere perché non abbiamo più speranza.